Ciao a tutti amici, bentornati sul nostro canale Buo Watch, io sono Cristian e quello che è lì dietro è Buo. Saluta Buo! Ah, lì, ha salutato. Oggi nuovo video e come avete potuto leggere dal titolo una grandissima sfida. Il nostro crono comparatore e la nostra applicazione Watch Accuracy Meter. Ovviamente il titolo è stato creato in modo scherzoso, è impossibile una sfida tra un crono comparatore e un'applicazione di un telefono gratuita, ma è utile un po' per capire i parametri se più o meno quelli dell'applicazione risultano abbastanza equilibrati con quello che ci offre il crono comparatore. È un'applicazione che mi ha incuriosito perché ogni volta sui vari social, quando qualcuno vuole controllare l'accuratezza dei propri orologi, utilizza sempre questa, mi sono incuriosito, l'ho scaricata, l'ho provata e mi sono detto, boh, facciamoci un video. Gli orologi che ho utilizzato per questa prova sono il mio Seagal 1963, bellissimo orologio e contestissimo di possederlo, e Orient Maestro. Questi sono i due orologi che ho utilizzato per questa prova. Ragazzi, è un'applicazione che ho scaricato, ho fatto una prova e ho deciso di fare il video. Non so se l'ho utilizzata bene, credo di sì, qualsiasi suggerimento per utilizzarla ancora meglio, me lo scrivete nei commenti. Non vi rubo altro tempo, questo sì, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete iscritti al canale, di iscrivervi, attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche, seguirci anche sul nostro canale Instagram dove tutti i giorni mettiamo le nostre foto e su Telegram dove ogni tanto mettiamo qualche offertina. Buona visione! Ok amici, ho preparato tutto, qui c'è il mio Seagal 1963 con un cinturino spettacolare, abbiamo da poco fatto un video, cinturino dei Seven Friends and Watches. Come vi dicevo nell'intro, se qualcuno non avesse visto il video, ho messo a posto il B-Terror di questo orologio, lo ricontrolliamo per vedere se ancora ce l'ho da zero. Aspettate che ho il riflesso della luce, ecco adesso si vede bene. E il B-Terror è ancora a zero, quindi contentissimo. 291 ad amplitudine che va benissimo, prima l'ho provato, superava i 300 e l'accuratezza come potete vedere è a zero, adesso più uno. Non faccio le prove nelle altre posizioni, visto che nell'applicazione non posso provarlo nelle altre posizioni, e quindi ci interessa questo. 295 ad amplitudine, tra zero e più due di accuratezza, il B-Terror ce l'ho posizionato a zero e quindi niente, andiamo a provarlo con l'applicazione. Telefono. Apriamo l'applicazione Watch Accuracy Meter. Eccolo pronto. Io l'orologio lo posiziono con la corona sull'altoparlante, visto che l'ho provato dall'altra parte ma non me lo legge bene. Start. E partiamo. Ok, qua in questo caso mi segna, al momento perlomeno, il B-Terror a zero punto otto, mentre prima me lo segnava. Tra zero punto zero, zero punto due, non mi ricordo, zero punto zero. E con accuratezza più o meno, vabbè, siamo lì ragazzi, zero, prima segnava tra zero e più due. Qua segna tra zero, meno uno. Ovviamente è impossibile che l'applicazione sia ben precisa, però dai, va bene, per farsi un po' un'idea di quello che può perdere l'orologio durante la giornata va più che bene. Spostiamo il patrone nel mezzo per farci meglio un'idea di come lavora l'orologio. Onesto ragazzi, io quando vedo le foto su, nei vari social così, tutti questi puntini, lo fa un bel lavoro, che teoricamente ha questo orologio perché nel crono comparatore non ha nessuno sbalzo. Non so se sono io che sto facendo qualcosa male, se qualcuno sa darmi qualche consiglio bene, se invece così è giusto, va bene, perfetto. Comunque, nei 60 secondi di prova abbiamo l'accuratezza zero, quindi come c'è la stava segnata il crono comparatore, vedo che ha un po' di differenza col bit error, ovviamente credo al bit error che mi segna il crono comparatore. Quindi, vabbè, dai ragazzi, è un'applicazione gratuita da prendere un po' con le pinze, ma per farsi un po' un'idea di come sta lavorando il nostro orologio. Poi, se interessa, si possono salvare i risultati, in questo caso, per fare poi delle comparative con altre prove. Mi sta venendo la voglia di provare a fare un'altra prova. Facciamo questa prova con l'orio e maestro? Orologio che ovviamente non metto tutti i giorni, ma quando lo metto sono proprio contento. Bello, mi piace, un casino, ancora non mi ha stancato questo orologio. Dai, partiamo subito facendogli la prova. 0.1 il bit error, ha una buona amplitudine. E accuratezza, guarda, 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 guadagna, 5 secondi. Al giorno più o meno? 4. Madonna, spettacolo. Dai, quindi tra i 4 e i 6 secondi al giorno. Vediamo un po' quello che ci dice l'applicazione. Partiamo. Bit error in questo caso sì, me lo dà uguale, identico. I guadagni più o meno 4 secondi al giorno. Caspita, perfetto ragazzi. Merita, merita, è troppo carina questa applicazione. Oltre ad essere gratuita è abbastanza precisa direi. Ma capisco perché la usano tutti. Fantastico, più 5. Sì, il bit error vedete come balla un po'. Secondo me, ora non so se per il tavolo magari ho bisogno di una base un po' più soffice perché ovviamente ci sono le vibrazioni del tavolo, ci sto pensando adesso. Però vabbè dai, grosso modo un po' si capisce che quello che interessa a noi è che ci dà lo stesso risultato del cronocomparatore. Ok ragazzi, che dirvi? Dai, non mi rubo altro tempo perché tanto abbiamo fatto la prova con questi due orologi e grosso modo risponde uguale. Un po' il bit error, la differenza con il segale è stato un po' il bit error ma secondo me conta molto magari quello che riguarda la cassa. Probabilmente, ripeto, forse il mio errore è che sono su una base di legno e magari le vibrazioni e giocano un brutto scherzo su quello che è la precisione dell'applicazione. Però bella, mi piace questa applicazione, una cosa veloce, gratuita e per farci un'idea di come funzionano i nostri orologi vanno più che bene. Però devo farci un'idea, se c'è qualcosa che non va allora magari si contatta qualcuno che possa verificare meglio con un cronocomparatore. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante e spero che sia stato d'aiuto e quindi se è così un mi piace per favore a questo video. Ciao ragazzi, a presto e al prossimo video. Ciao! Ciao!